ecco buongiorno a tutti possiamo ripartire con questa seconda lezione dedicata alla questione ucraina segnatamente alla guerra che è partita ormai già ad alcuni mesi e che merita di essere interpretata al di là della chiacchiera giornalistica diremmo con le vecchie categorie di martin heidegger tentando cioè di approfondire e di impossessarsi del concetto della logica della cosa piccolo riassunto della puntata precedente se così vogliamo dire abbiamo provato a delineare per sommi capi e senza alcuna pretesa di esaustività come si sia potuti giungere a questa situazione ne siamo andati al di là della narrazione giornalistica mainstream di superficie talvolta condivisa anche dalla sfera intellettuale la narrazione secondo cui ci troveremmo semplicemente al cospetto di una sorta di impazzimento improvviso di un uomo di stato vladimir putin che exabrupto all'improvviso decide di invadere l'ucraina abbiamo provato a ragionare su quali sono le motivazioni storiche che hanno portato a questo esiziale evento del nostro presente alla guerra in ucraina abbiamo provato a porre in evidenza le contraddizioni dell'ordine post 1989 abbiamo provato ad adombrare le ragioni che hanno portato di fatto la nato a occupare sempre più spazi nell'area post sovietica con un obiettivo nemmeno troppo nascosto che è quello di occupare anche l'area russa come sembrava che stesse e dovesse accadere con gorbaciov prima la perestroica e poi con yeltsin fino a che non arrivò come abbiamo visto vladimir putin a invertire le tendenze e a prospettare un diverso ordine quello che ancora oggi sembra caratterizzare la russia paese non disponibile a piegarsi rispetto all'ordine washingtoniano e anzi all'occorrenza anche di opporre resistenze e di reagire come appunto sta avvenendo in ucraina dal 2022 ecco bisogna lavorare ancora un attimo sulle categorie dominanti per provare a decostruirle qui facciamo nostro il cassetto degli attrezzi di antonio gramsci il quale nei quaderni del carcere dice che occorre anzitutto decostruire decostruire non è meno importante che costruire anzi diremmo che il gesto della decostruzione deve essere prodromico rispetto alla costruzione di un'altra versione delle cose di un'altra narrazione bene la narrativa egemonica e saldamente orientata in senso atlantista continua a presentare la guerra in ucraina divampata nel 2022 come il frutto della decisione scellerata di un soggetto psicopatico questa ha grandi pennellate la narrazione dominante dal 2022 ad oggi che badate è sospesa tra un duplice registro tra la volta anzi questi due registri si riannodano fra loro da un lato un registro che definirò di tipo psicanalitico abbiamo un soggetto vladimir putin in balia di un impazzimento in balia di un delirio di onnipotenza degno del lettino dello psicanalista dall'altro versione invece in questo caso non psicanalitica ma potremmo definirla demonologica o se preferite una versione che con leo strauss definiremmo della reduxio ad hitlerum abbiamo un novello hitler vladimir putin che proprio come il suo predecessore hitler in carne e ossa è colto dall'irrefrenabile desiderio di occupare territori circostanti e dunque decide di aggredire l'ucraina nel 2022